Power Rangers una volta e per sempre è uno special televisivo del 2023 diretto da Charlie Askell ed è uno special televisivo che va a festeggiare, diciamo così, il trentesimo anniversario della prima puntata della serie televisiva Power Rangers, nata nella sua prima interazione Mighty Morphin Power Rangers nel 1993, ergendosi da quella che è la serie Super Sentai di stampo nipponico. Sono passati quindi una trentina di anni da quando questa storia dei Power Rangers è cominciata e improvvisamente ci ritroviamo nel piano della battaglia. Billy, infatti, il storico Blue Ranger, interpretato nuovamente da David Yost, viene attaccato da una neoritrovata Rita Repulsa in forma di robot che si è ricostituita. Improvvisamente fortunatamente arriveranno anche gli altri Mighty Morphin Power Rangers a dare sostegno al nostro Billy. Tragicamente però perderà la vita improvvisamente durante lo scontro per salvare Billy e Yellow Ranger, Trini, lasciando così una figlia, Min, interpretata da Charlie Kersh, da sola. Passerà un annetto. Durante questo periodo il suo padrino, Zack, Walter Jones, lo storico Black Ranger dell'epoca, se ne ha preso cura di questa ragazza, che nel frattempo è diventata sempre più brava nelle arti marziali e medita di diventare la nuova Yellow Ranger, tendenzialmente per vendicarsi della tragica scomparsa della mamma. Accadrà che ci sarà nuovamente l'attacco da parte di Rita, che a poco a poco cercherà, con i suoi scagnozzi di turno ovviamente, di andare a prelevare dei Power Rangers, miniaturizzarli e acquisire i loro poteri per poter perpetrare i suoi terribili scopi. Conquista del mondo e poi scopriremo anche cambiare almeno in parte la storia, laddove quella storia era cominciata tanto tempo fa quando, dalla Luna, la spazzatura spaziale da cui lei era tenuta prigioniera, era stata scoperchiata e quindi era cominciato quanto. Una puntata speciale questa, una puntata speciale che inevitabilmente è un po' un'operazione nostalgia. Un'operazione nostalgia che io mi sono gustato a pieno, essendo io stato, così come tanti, lì quando tutto era cominciato, quando era cominciata questa storia, tanti anni fa. Ricordo quando ero piccolo che era veramente appassionante vedere le avventure di questi Power Rangers. Inizialmente c'erano i cinque, poi ovviamente si sono esparsi con quello che sarebbe poi diventato in realtà il Ranger più caratteristico, se vogliamo, di tutto quanto il filone. Allora Green Ranger e poi altri colori che era Jason David Frank. Questo special, se vogliamo, è un qualcosa che inevitabilmente deve scontrarsi con così tante puntate, così tante serie, così tanti cambiamenti in generale nell'ambito dell'intrattenimento anche applicati al filone dei Power Rangers che è andato avanti per tanti e tanti anni da allora. Tante serie, decine, centinaia di interpreti fondamentalmente, un franchise gigantesco che in realtà è anche andato oltre quelli che erano eventualmente i limiti dell'ambito televisivo e che poi si è portato anche in ambito ad esempio fumettistico, videoludico o magari quello forse un pochettino più famoso dopo quello televisivo che è quello cinematografico, anche con tentativi di rilancio. Addirittura, almeno in parte, quando c'erano ancora i Power Rangers vecchia data o perché no, magari anche quando c'è stato un tentativo di rilancio, qualche modo di cambiamento, anche quasi un remake che andava in direzioni anche un pochettino diverse in tempi più recenti. Un'operazione nostalgia che si scontra con ovviamente tutti quanti quei cliché che erano caratteristici all'epoca e che adesso fanno sorridere inevitabilmente. Tutte quante le tutine, ovviamente, tutti quanti quei momenti di scazzottate a tratti veramente pretestuosi, un pochettino ridicoli a volte. Tutti quei momenti in cui ci sono ovviamente delle estetiche che con gli occhi di adesso sembrano veramente essere un qualcosa di bambinesco e veramente di antiquato. Però al netto di questo, secondo me, questa puntata, pur confrontandosi con quel passato e ovviamente con la percezione odierna, il presente e del passato, riesce a essere un qualcosa, secondo me, di riuscito. Questa puntata decide di integrare nella sua narrazione, purtroppo, delle gravi mancanze di tradici addi che sono stati dovuti dare, nel corso della storia vera, purtroppo, ad alcuni degli interpreti di questo storico filone. Il più evidente, ovviamente, è il personaggio dello Yellow Ranger, allora Trini Kwan, interpretata da Tui Trang, che ha perso tragicamente la vita tanto tempo fa. Più in tempi recenti, invece, l'attore simbolo del franchise, Jason David Frank, anche lui, purtroppo, l'abbiamo perso tragicamente. E, da questo punto di vista, il suo personaggio è stato profondamente limitato ed, in realtà, siccome credo, anche per motivi di continuity, il suo personaggio debba, volendola mantenere questa continuità, rimanere in vita, si è scelto semplicemente di trovare un escamotage per limitarlo il più possibile, magari facendo partecipare la sua dolce metà, almeno per quanto riguarda la continuità di questa storia. È un qualcosa, quello che abbiamo modo di vedere con questo special, a tratti di veramente modesti, inevitabilmente, però, secondo me, c'è stato un buon equilibrio tra quella sensazione di low budget, che si può percepire in determinati frangenti, soprattutto, mentre guardiamo le scene, e, al tempo stesso, un voler andare a recuperare comunque, magari con dei piccoli cambiamenti, ma senza annientarlo, cambiarlo troppo, quel passato, anche visivo, che tanto intratteneva e che tanto affascinava, in tempi evidentemente diversi da quelli attuali, ma che, in qualche misura, forse, si sono comunque tramandati. Non a caso, infatti, il franchise comunque è ancora in vita, tutt'oggi. Che dire, complessivamente, io ho apprezzato abbastanza le interpretazioni. Ovviamente, non posso dire di aver visto delle interpretazioni straordinarie o quant'altro. Ci sono poi delle scritture dei personaggi, molto idascali o quant'altro, però, sinceramente, andare a fare le pulci in questo modo, su un prodotto del genere, secondo me, ha poco senso. Tendenzialmente, questo è uno special che non può che essere rivolto, di fatto, soltanto a coloro che furono bambini quando arrivarono i Power Rangers. E sono loro che devono eventualmente giudicare se, come il sottoscritto, percepirli in una maniera positiva, oppure, invece, percepirlo soltanto come una mera mossa di marketing, senza un minimo di cuore, in realtà, e senza il minimo pregio. Per quanto mi riguarda, scelgo di vedere del positivo in questo speciale. Uno speciale che omaggia? Interpreti che non ci sono più, purtroppo, è un certo immaginario, che ha cresciuto, tanti di noi, compreso il sottoscritto, e che, sebbene, non smania assolutamente della voglia per vederlo in nuova vita, così come era un tempo, tutto sommato, comunque, credo che manterrà sempre un posticino nel mio cuore. Power Rangers, una volta e per sempre. È proprio così. Se l'avete visto, all'epoca, guardatelo oggi.